Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Priorità ai disoccupati di lungo periodo, gli over 50, le donne per tutelare le fasce più fragili della popolazione abruzzese. 39 milioni di euro sono gli incentivi del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, pronti per dar l'infa all'occupazione, alla formazione, alla riqualificazione professionale. Il piano è stato presentato a Teramo dall'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale, insieme alla direttrice del Dipartimento Lavoro e Sociale Renata Durante, la responsabile del servizio formazione e apprendimento Nicoletta Bucco e la funzionaria Maria San Benedetto. Per l'occupazione giovanile la dotazione finanziaria è di 15 milioni di euro. Si rivolge alle imprese abruzzesi che intendono assumere full time giovani disoccupati fino a 35 anni, con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Ad 11 milioni di euro, invece, ammonta la dotazione finanziaria prevista per l'occupazione over 36, destinate alle imprese abruzzesi per l'assunzione full time a tempo determinato e indeterminato di disoccupati oltre i 36 anni, con particolare attenzione alle donne e agli over 50, per la cui assunzione è previsto un contributo economico ancora maggiore. 3 milioni di euro sono previsti inoltre per la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori di imprese in situazione di crisi aziendale, cui si affiancano le risorse di 10 mila euro riservate ai percorsi formativi personalizzati per agevolare l'inclusione lavorativa. Da oggi è possibile presentare le domande. L'assessore ha parlato di misure estremamente importanti per la regione frutto di un lavoro rigoroso fatto di ascolto nei confronti di imprese e cittadini abruzzesi.